Buon inizio di settimana, è arrivato a Torino Facundo Gonzalez, quindi il secondo colpo in entrata dopo Timothy Weah della campagna acquisti estiva Juventina. E' chiaro che parliamo di un calciatore che molto probabilmente non rimarrà all'ombra della mole, andrà immediatamente via in prestito, vedremo se ha la Salernitana che è il club maggiormente in prestito in queste ore, ma resta un'operazione interessante, progettuale, che comporterà un esborso tra indennizio e potenziali bonus complessivamente da non oltre 3 milioni che finiranno nelle casse del Valencia, mentre Facundo Gonzalez oggi siglerà il contratto che lo legherà la Juventus fino al 30 giugno 2028, contratto da più o meno 500 mila euro netti annui, quantomeno come base di partenza. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campagna delle notifiche e lasciate un bel like, perché questa mattina saremo al J Medical proprio per immortalare i primi attimi di Facundo Gonzalez con il mondo bianconero. È chiaro che in questo momento ci stiamo anche accontentando di poco, non possiamo fare finta che sia un mercato scintillante, però bisogna fare anche cronaca, stare sempre sul pezzo, e che sia il 7 agosto, e che sia una data qualunque, sia sempre lì, su marciapiede, per riportare quanto concretamente accade. Venendo agli argomenti più corposi, è normale che da oggi poi qualunque giorno sia buono per avere delle novità, degli aggiornamenti circa questo potenziale scambio tra Romelu Lukaku e Tujan Vlaovic sull'asse Juventus-Celsea. Sappiamo che i contatti ci sono stati anche nell'ultima settimana, ma che non hanno portato né un accordo né sostanzialmente a poter definire questo quadro come rosio, quindi con una definizione dietro l'angolo, perché la Juventus, legittimamente e giustamente, considerando che Vlaovic ha 7 anni in meno di Lukaku, vuole un conguaglio nutrito a suo favore, il Chelsea ancora è una sorta di work in progress in termini di ragionamenti. Come vi ho detto e lo ribadisco anche oggi, sarà determinante la volontà di Maurizio Pochettino, del tecnico dei Blues, che a una certa dovrà dare il suo parere definitivo. Quindi o l'ok, oppure il 2 di picche, ma in generale bisogna comprendere concretamente quello che potrà accadere durante questa settimana. Ieri ci sono state anche delle indiscrezioni, rimbalzate più dalla Germania, che riportavano un ipotetico ritorno di fiamma del Bayern Monaco, che resta ancora lì, veramente è una trattativa molto estenuante, che mi ricorda quella che aveva portato Manuel Locatelli da Sassuolo alla Juventus. Sto accennando riferimento ovviamente all'assalto su Henry Kane del Tottenham, però gli Spurs tengono duro, anche giocato, assegnati in amichevole. Insomma, il Bayern si ritrova al 7 di agosto in una situazione un po' così, considerando come il campionato si imminente occorre da quelle parti un centravanti titolare prolifico. Qualcuno ha parlato di un possibile interesse nuovo nei confronti di Vlaovic. Vedremo se arriveranno telefonate in settimana. Ad oggi, diciamo che l'unico argomento che resta sul tavolo è quello con il Chelsea per l'ipotetico scambio con Romelu Lukaku. Saranno determinate anche le partenze, saranno determinate anche le partenze perché la Juve ha bisogno di sfoltire l'organico. Dopodomani ci sarà questo allenamento a porte aperte a partire, se non ero, dalle 18.30 all'Allianz. Mi dicono che i 20.000 biglietti siano gratuiti, siano già stati esauriti, quindi sostanzialmente il tifo Juventino fa sempre la sua parte e bisogna auspicare che questa volta, in questa nata, i protagonisti possano ripagare la fiducia a tratti incondizionata proposta dal pubblico bianconero. E quindi bisogna andare davvero a scremarlo sensibilmente. Vedremo se già oggi verrà definita la partenza di Ake in direzione udinese, ma è l'uscita più avanzata tra le attuali della Juventus in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. C'è sempre il pressing del Genoa per dell'Inter in prestito con obbligo di riscatto a verificarsi a determinate condizioni, più o meno attorno ai 10 milioni. C'è il Monaco che sta lavorando per ottenere il sì di Denis Zaccaria, calciatore che la Juventus valuta a 20 milioni. E questa, se si verifica, è un'importante cessione per un calciatore che non rientra nel progetto tecnico della Juventus. C'è sempre forte il pressing della Lazio, momentaneamente in prestito nuovamente per Luca Pellegrini. In molti mi avete chiesto se il Fulham, se altre squadre anche della Ligan offrono soldi. Perché la Juventus non si concentra su queste destinazioni? Perché non dà il suo 2 di picca a Lazio? Perché, come spesso accade, la volontà dei diretti interessati è determinante nel mercato moderno e quindi è lo stato attuale. Ma questo lo abbiamo detto la settimana, Pellegrini, fin quando sa che c'è la Lazio, c'è una minima speranza, oppure una grande speranza, non apre concretamente ad altre destinazioni. Non è un caso che poi la Lazio lì, mi sembra che a sinistra, non abbia fatto nient'altro, sebbene abbia sondato altri profili, poi finita in altri parti come lo stesso Parisi. E quindi è ipotizzabile che anche in settimana ci possa essere un ritorno alla carica del club bianco celeste per ottenere nuovamente il prestito, o quello che sarà, di Luca Pellegrini. Ci sono anche poi i discorsi in ballo con la Salernitana, al di là di Facundo González, anche lo stesso Miretti che piace ad altre squadre, a mezza Serie A anche lui. Hans Nicolussi Caviglia che potrebbe tornare a Salerno dopo aver vestito quella casacca già nella seconda parte della scorsa stagione. Stiamo parlando di tanti calciatori, di tantissimi calciatori. Credo che poi la Juve, sfruttando il fatto che oggi Facundo González sosterrà le visite mediche, parlerà con i suoi entourage, che è lo stesso di Mattias Ossoulet. Vi ho raccontato, vi ho ribadito e ve lo ribadisco anche oggi, perché da quello che so io l'entourage punta a trovare un'altra sistemazione immediata per fare in modo che Mattias possa giocare con maggiore continuità. E ci può stare, considerando come poi la Juventus è stata esclusa dalla conference, come si dovrà concentrare unicamente sulle competizioni cosiddette domestiche, campionato e Coppa Italia e turnover. È ridotto in questa annata, immagino che davvero i migliori possano giocare sempre, poi bisogna auspicare che non si vivano gli infortuni che la Juventus ha vissuto nella passata stagione, soprattutto nella prima parte. Poi nella seconda le cose sono andate nettamente meglio, la Juve è arrivata anche con un buon passo al termine delle varie competizioni. Però quindi anche in queste ore mi aspetto che ci possa essere un aggiornamento sul fronte Mattias Ossoulet. Insomma dai, quella che inizia oggi secondo me non è una settimana banale, ma non lo faccio per tenervi incollati al mio canale o per fare in modo che possiate leggere i miei pezzi o monitorare in generale i miei movimenti sui social. Perché davvero c'è da fare, c'è da fare, c'è da fare, c'è da fare. Avremo un po' di azione questa mattina con Facundo Gonzalez che nell'immediato può dire poco, ma potrebbe dire molto negli anni e speriamo che sia così perché significherebbe assieme a Dan Huizen e altri ragazzi che compongono il pacchetto a retrato che verrà di avere calciatori destinati a far bene. E poi ci sono questi discorsi in ballo che abbiamo analizzato assieme, abbiamo citato almeno 5-6 calciatori che sono in uscita o potenziale tale dalla Juventus. La più corposa come partenza è quella di Denis Zaccaria, anche a livello salariale, anche per l'ingaggio che poi la Juventus risparmierebbe perché Zaccaria percepisce più o meno 3 milioni e mezzo netti annui. Però qui credo che il Monaco stia lavorando intensamente per ottenere il sì del centrocampista ex tra le altre squadre. Borussia Mönchengladbach, insomma dai, oggi sul pezzo eh!